Nello scorso video abbiamo portato Cico su Grenny e vi è piaciuto tantissimo, mi avete chiesto di portare Alex su Grenny E io Alex su Grenny ce l'ho portato, sei pronto? Sono carichissimo Bene, mi fa piacere, allora premi gioca e metti modalità facile, mi raccomando, mettiti facile Non spuntare niente, continua, vai Tu non hai mai giocato a Grenny? No, mai Benissimo, questa è la cosa più importante perché dovrei fidarti dei miei consigli, ok? Forse mi ricordo male, forse non succedeva niente Oh mio Dio, io già me lo sento, io già me lo sento Ok c'era, bene, allora partiamo con il piede giù, Alex sei vivo, stai bene? Tutto all'ora? Benissimo, allora, la nonna sente i rumori, quindi se vedi tu quel vaso sulla sinistra, se tu lo fai cadere, lei lo sente, ok? Quindi non lo farei cadere, attento a cosa tocchi Adesso, come vedi, con R ti potevi ficare sotto il letto, quello è un ottimo nascondiglio, ti potrei ficare sotto diversi letti Ora però, fammi il favore che devi uscire, dobbiamo giocare Ok, sì Allora, esci dalla porta, vai, attento, eh, sì sì, attento Ok, rimani qua, allora, potrebbe averti visto però, perché mi sa che t'ha visto, t'ha visto No, non è vero, non è vero Secondo me t'ha visto, Alex Non è vero, non è vero Secondo me t'ha visto, secondo me t'ha visto, t'ha visto, Alex No Alex Vai via Ok, sei andato, non ti aveva visto Ok, se ti avessi visto, ti sarebbe ficcata sotto il letto dove tu eri, sarebbe stato bruttissimo Ma non t'ha visto Ok, benissimo Ok, siamo partiti col piede sbagliato, ma adesso possiamo ancora recuperare Quando te lo dico io esci, aspetta Ok Ok, perché questo è un gioco di pazienza, non ti devi mai buttare Aspetta, no Sto pazientissimo io Ok, ora esci, va bene? Ok Vai a spizzare e vedere dov'è Ok, piano Ok Attento, c'è una tagliola lì per te Hai visto? L'ho vista la tagliola Non ci deve camminare sopra Non ci deve camminare Allora esci e vai giù dalle scale Ok, piano, piano, piano Ora gira, non lì, lì c'è il filo Bravo Piano, eh, piano Allora inizia a frugare nei cassetti della cucina, ok? Piano, piano Ok, anche quelli sopra Bravo Il tuo obiettivo Non c'è niente Continua a cercare, il tuo obiettivo Controllati alle spalle Ok, perfetto Tranquillo, tranquillo Il tuo obiettivo è trovare certe parti Che ti, ecco, tipo la carne Non ti serve ora Ma non la buttare Perché lei lo sente Adesso vai a sinistra Bravo, qui Vedi di fronte a te c'è una finestra? Entraci Questa, sì Sì, vai, vai lì Ok, sei molto più responsivo di Cico Cico non ascoltava un cacchio Ok, ok Allora adesso Passa dritto No, non andare lì Ok, vai dritto Destra Bello Eh, lo so Ficcati nella cassa Ficcati nella cassa Bravo Adesso riorganizziamo le idee, ok? Ok, ok Allora, in questo momento Tu ti trovi nel cortile della nonna Ok Ok, lo vedo Non è un buon posto dove stare Come puoi vedere Però Eh, lo vedo Ci sono due strade Se tu vai Uscendo dalla cassa Vai a destra C'è una strada Ok Invece quella grata per terra Che hai visto È l'altra strada, ok? Noi adesso Andiamo a destra Quindi esci dalla cassa Ok Vai a destra Bravo Attento al filo, eh Ok Apri la porta di questo gabbiotto Questa? Sì Ok, attento che ci sia qualcosa Qua dentro C'è qualcosa sulla destra Dietro a te Dietro a te Dietro No, no Hai fatto rumore Vai nella botola Nella botola No, no È troppo tardi È arrivata No, no Nella botola No, no Chiudi Vai lì Inchinati Inchinati Bravo, bravo Porca miseria Abbiamo rischiato tantissimo Eh, io Te lo dico, eh Eh, lo so Quante volte diremo Cacato addosso In questo video Sarà un sacco Over 9000 Ok Calmo Adesso Ok Questo aggeggio che hai Non ti serve a molto Quindi buttalo Ok, buttalo qui Che lei non può venire Adesso Devi spostare Vedi che ci sono due casse Davanti a te Ora Ecco lì No Non iniziare a muoverti così Allora Giù, sì Spingile Spingile Col tuo peso Ok Bravo Perfetto No Rientra dentro Ma non è che ci ha sentito Sì, certo che ci ha sentito Rientra dentro e aspettala Perché adesso Lei sicuramente arriva Adesso Non così dentro Non così Stai spizzante Bravo Allora, ti spiego cosa succederà Adesso È una sudata ogni volta Per farvi giocare a questo gioco Eh, io Non so se continuare Perché è faticosissimo Davanti a te C'hai delle scale Oltre il buio Ok Queste scale ti portano su Ma tu non vuoi andare su Perché ti troveresti in cucina Esatto Devi andare invece Dietro le scale Cioè devi andare Muro, muro a sinistra E poi dietro le scale E scendi Ok Ok Vai Via Attenzione Cosa ti fa Non sale Piano Ok, bravo Piano, piano, piano Tranquillo E qua dai un'occhiata però Perché ti serve sempre da trovare le cose Non è nulla questo Niente Questa ti serve la chiave Ok Adesso Qua dietro Sì, dietro Esatto Vedi che c'è un buco Qui, qui Bravo Zippati Ora Piano Non toccare nulla Allora Ti avviso Se tocchi il retro della macchina Cade il coso e fa rumore Ok Quindi non farlo Invece Controlla le mensole dietro di te In questo momento Ok Bravo Sembrerebbe che Niente Che sfortuna Ok, va bene Va bene Qua, qua Eh non c'è niente Ci sono i colpi Ma tu non hai ancora il fucile Ma il fucile è tarocco qua Eh no È un diagramma per spiegarti come costruirlo Ora Devi risalire le scale Ok Ok Eh Attento perché è probabile che ci sia la nonna Eh Quindi Vai con cautela Gira Adesso devi Ascolta a me È difficile Gira Adesso dritto Vai però Vai Dritto e sinistra Sinistra Ok Dietro la casaforte Dov'è? Qua Sì Dietro la casaforte Sulla destra Vai Ci sono Vedi ci sono delle scale Lì devi infilarti lì Ti devi infilare No no Sbagliato Fermo 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 Quella cosa di ferro Hai capito? Questa Bravo Bravo Spingi la via E infilati Ok Più veloce Infilo tantissimo Bravo Infilo tantissimo Ottimo Ottimo Bravo Ok Stiamo andando bene Stiamo andando meglio di Cico Meglio di Cico Bravo Bravo Abbiamo ancora tutte le vite Sai quante vite hai su Granny? Quattro Cinque 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 Bravo Bravo Sali le scale Sali le scale Attenzione Sì con cautela Con cautela Ok Molto bene Apri quella porta di fronte a te Bravo Ti stai cacando addosso? Tantissimo Ok Ho paura che È un prosciutto È un prosciutto Ma dietro il prosciutto c'è una porta segreta Eh la vedo La intravedi? Prova a spingerla Non ricordo se sì Sì si può Bravissimo Ora Insinuati in questa stanza E lo so È brutta È la sorella della nonna quella Adesso Ah la sorella Abbiamo un portaceno Non ci serve a niente Girati Mi devi far vedere sui punti chiave Capito? Qui No quello non puoi ancora Ok Apri lì Sì Benzina Non ci serve Non ci serve Però ricordiamo Di qua scusa Qua non si può aprire se non ricordo male Ma prova Invece si poteva Prova a entrare Il calcio del fucile Può essere buono Prendiamo Prendiamolo Prendiamolo Ci sono tre parti del fucile Dove la dobbiamo portare il calcio del fucile? Dal fucile Di qua Dove hai trovato Attento al prosciutto Bravissimo Vabbè Devi ritornare Dove c'era il garage Quindi adesso Sinistra Sinistra Bravo Scendere Bravo Uscire da Mamma mia Bravissimo Con caute Stai andando bene Non ti devi preoccupare Molto bravo Solo una volta l'abbiamo beccata Bravo Bravo Bravissimo Adesso Ti alzi Vai dietro le scale Scendi al piano di sotto Infili il fucile Appoggi il calcio del fucile Proprio dove c'era il disegno del fucile Hai capito? Bravissimo Sì Esatto Bravo Adesso Devi andare Ascolta Qua si fa difficile Allora Devi risali Vai però Vai sali le scale Risali anche le altre scale Ti troverai davanti alla cucina Ok Però ci devi andare Quindi bravo Sali così Bravissimo Gira destra Attento alla cordicella Come faccio? Salto? Gira dall'altra parte Bravo così Ok Adesso controlla nelle mensole No no Stai andando dritto per dritto Bravo C'è la manopola Buona prendila Ora dritto da dove stavi andando Continua Bravo così Ok devi andare alla finestra La stessa di prima Questa finestra? Sì e uscire Ok Ottimo lavoro Adesso Con la mano Ah Esce la finestra Ok È andata Maluccio E non so cosa ci faceva quella puzzona della nonna Noli Io userei un'altra parola Eh Ma Alex YouTube me lo vieta Eh lo so Allora adesso ascoltami Calmati Perché è stato pesante Ma adesso Calmo Allora Adesso dobbiamo recuperare quell'oggetto che ci ha fatto perdere Quindi devi riuscire Devi riandare dove Quindi vai ora Attento eh Ok Piano eh Allora tu Lei devi sapere una cosa importante No 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 Chiuditi 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 Vai sotto il letto Non lì Va bene va bene va bene va bene va bene va bene Non la vedo non la vedo Rimani fermo adesso lei arriva Eccola eccola Ok Tranquillo però Tranquillo Va bene Va tutto bene Ah tra l'altro io devo far vedere una cosa Abbi pazienza mentre tu sei lì che ti cacchia Guardate che c'ho La maglietta degli SCP Eh Tu la vuoi la maglietta degli SCP Te la devo comprare Te la regali? Te la regalo Invece voi se la volete non posso regalarla a tutti Abbiate pazienza Se la volete sta sotto il video Qua sotto il video E mi farebbe piacere se l'avessero tanti di voi Perché mi piace molto L'ha fatta Anna Apri l'armadietto Credo che sia passato abbastanza tempo Bravo Vai a fare quello che ti ho detto Vai giù Ok Devo tornare di là Bravo Devi fare tutto Attento eh Dietro il tavolo Bravissimo Falsoppico Vai Mamma mi ho messo Non ti devi mai fermare Mai Mai Adesso piano Attento non lì Bravo Ok ok Vai al pozzo Vai al pozzo Al pozzo qua Sì Premi E premi F Bravo Adesso Lei sente? Non ti devi fare una Non sente Non sente Non sente Continua a girare Continua a girare Piano 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 Adesso sale il secchio Nel secchio potrebbe esserci il martello Noi vogliamo il martello C'è il martello Bravissimo Prendi il martello Aspetta finisci di girare Bravo Prendi il martello Adesso Stiamo andando bene Martello Allora Ascolta me E' difficile qui eh Allora Ascolta eh Stai ascoltando Esci Vai alla finestra Alla finestra Ok ok Rientri alla finestra Poi Vai Devi salire Le scale Quindi fai il giro Da qua Mi sa che lì c'è la nonna Vai dall'altra Non andare in fuori Bravo Così Sali le scale adesso Ok mantieni la calma Lei è dietro di te Ma tu puoi essere più veloce Sali le scale Sali le scale veloce Vai vai Ce l'hai dietro C'è una trappola Bravo Passa muro muro Passa muro muro Ok muro muro Continua a salire Dritto lì bravo Dritto apri la porta Apri la porta davanti Sì Sali 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 Bravissimo bravissimo Adesso Accucciolati E ficcati qua Sinistra Vedi che c'è Più veloce Bravo Ficcati sotto Rimani fermo qui eh Perché se vai nella cosa Non cadere Non cadere No 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 Non cado Ok Ho sudato Ma va bene Adesso aspettiamo Eccola Fermo Tranquillo Ma lei non mi vede Come fa Non vedi No qua non ti può prendere Ma tu non indietreggiare Perché cadi Stai fermo Ok Ora noi aspettiamo Che lei se ne basta E essendo molto bravo Ok Sembra quando tipo Un passeggero di un aereo È costretto a prendere Il comando dell'aereo E un pilota Gli parla Dalle cuffie E gli dice Fai così Premi questo tasto Moriremo No Devi stare calmo Tu Devi stare calmo Adesso esci Piano piano Esci Guardati bene Se lei se n'è andata Se ne è breve Ha messo una trappola Non ci interessa Adesso ti spiego Fermo Non toccare il manichino Che se cade Ti sente Allora Devi andare Ascoltami Prima ascolta Poi lo fai Ascolto Ci sono delle assi Alla tua sinistra Ok Quelle Vedi Bravo Le devi togliere Con il martello Ne devi togliere due E poi devi andare Subito nel buco Vai Riprendi il martello Riprendi il martello Corri Togli l'altra Vai nel buco Vai nel buco Dove eri prima Vai dove eri prima No 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 Non è buono Non è un'idea del cacchio Vai nel buco Vai Va bene anche lì Però mi devi dare retta Ti cagli addosso troppo Ero cagato addosso Non c'era più la calma L'ho notato Quando stai zitto È quello che sta succedendo Ok Tranquillo Tranquillo Ok tranquillissimo E noi siamo stati bravissimi Per ora Ok Ok si Calmo Adesso Con lo stesso martello Che tu hai usato Devi fare un'altra cosa Ok Che ti vado a spiegare Lo riprendi Anzi no C'erano un sacco di cose Allora devi prendere Adesso aspettiamo che la nonna Si leva dalle scatole Perché Eh ma non si leva eh Che puzza di scurregge E fa schifo Vai via Ok Se ne sta andato Adesso Appena lei gira l'angolo Tu esci dalla cassa Prendi una delle assi da terra E la piazzi Adesso ti dico dove Prendi Esci Prendila Eh ma cade il martello così Cade il martello Cade il martello Prendo la cosa E mi metto qua dentro Bravo 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 E non morbottarmi come Giorgio Scusa Scusa Ok Rimaniamo qui dentro di nuovo Per aspettare che facciamo Stemperare la situazione Ok Vedo che le tue possibilità Di scappare Sono piuttosto ridotte Però Come Eh perché sai Però Però Sono ancora speranzoso Va bene Tranquillo Allora Aspettiamo che la nonna Si leva dalle scatole Che lei è molto rompiscatole Beh Alex Nuggets Perché non vieni a lavare Le unghie dei piedi Alla nonna Che schifo Ok esci adesso Bravo Piano piano adesso Vedi davanti a te C'è un Davanti Sì Vedi che c'è un buco Strano Non c'è andare Metti l'asse Bravo Adesso Questa No solo una Adesso ci devi passare Non vale Ti ha visto Ti ha visto Sei scemo Non è vero Non è vero Ti estrai dalla cassa Ti dà la mazza No vedi Te l'ho detto Te l'ho detto Era ovvio Va bene Però hai fatto delle buone cose Sei stato bravo Di nuovo Abbiamo ancora altre Due vite Due vite Sono giorno due Però vediamo se andrivate fino alla fine Allora io ti voglio far Raggiungere un achievement Ok Cioè non voglio che tu finisca il gioco in una volta Va bene Mi interessa più Che tu riesca a ottenere qualcosa di cui essere fiero Va bene Ok Quindi Ascolta me Devi Aprire la porta Andare di sotto Ok E ficcarti in garage Quindi Come prima Lì Bravo Via 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 Adesso Devi fare tutto Interrare fuori Bravo Bravissimo Ok Adesso sinistra Sinistra Bravo Ti ficchi nel gabbiotto Tranquillo Stai andando bene Non farti prendere Dove cacchio guardi Bravo Bravissimo Continua Perfetto Devi andare Fammi un attimo riordinare il cervello Perché potrei essermi confuso Allora Infatti mi sono confuso Va bene Adesso tu esci da qui Ok E vai dritto a destra Proprio dopo questa parte Ok Esci anche da qui Bravo E destra E ti infili Nell'altro buco No 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 Ho sbagliato A sinistra era Bravo Dritto lì Sì 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 Mi capisci al volo Ti voglio tanto bene Ok Bravo Adesso Devi salire Le scale E poi ce ne sono altre Devi salire anche le altre Ok Ok Vai Vai Dimmi delle tue impressioni Voglio sapere come Io ho paura E lo so Mi sono cagato addosso Molte volte Molte volte Ok Vedi quelle scatole Sulla destra Le devi spostare E ficcarti dietro Bravo Ficcati sotto Bravissimo Ora Vedi quel pulsante Premilo Ok Ora spingi la parete Ok Devi prendere L'orsetto Non il fucile L'orsetto Aspetta Va bene È troppo tardi Vai 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 Questo orsetto Devi sapere Fa arrabbiare la nonna Vai a sinistra Va bene anche così Va bene anche No Vedi che aveva gli occhi rossi E come mai Perché quando tu le prendi L'orsetto Lei si adira moltissimo Perché l'orsetto Della figlia La figlia è slendrina Ok Però tu Che sei un eroe Devi riuscire a portare Quell'orsetto Ti ricordi dove hai tolto Le assi di legno Lì Lì lo devi portare Ok Questo è È la tua missione Devo riprendere Dove l'ho lasciato Sì 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 Vai 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 Ok Ok Allora è facile È facile Apri Vai Di sopra Di sopra No no Andare lì No no Sto sbagliando io Mi sto confondendo Devi andare di sotto Io so Vai di sotto Vai di sotto Sì ok Di sotto Vai vai con calma E attento Hai toccato i quadri Sei un criminale Sei un criminale Smettila di andarti a nascondere Guardati Guardati come ti cacchi addosso Ogni volta Mamma mia Cioè ma ce l'avevo davanti Come facevo Eh lo so hai ragione anche te Allora devi riandare Dov'era l'orsetto Quindi rifatti quel percorso Correndo Ok Senza fermarti mai Ok Sei pronto Aspetta che lei sta entrando Non penso perché mi sa che sta entrando Eh non mi borbottare però Perché poi mi arrabbio Lo sai cosa succede Scusa Allora sono più pericoloso della nonna Quando le rubi l'orsetto Esatto Vai apri l'armadio e vai Bravo Vado Con calma e non toccare Attento alla trappola E attento ai quadri È là È là Davvero E non l'ho vista Era là Vai 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 Gira dall'alto Dove vado Sinistra sinistra Vai 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 Sinistra sinistra Corri Ok Non dove Va bene Sì 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 Ok Era questo Sei bravissimo Hai già capito tutto Hai già una nota mentale Mamma mia Sei il campione del forever Vai Adesso Sinistra sulle scale Poi sinistra Sulle scale ancora Vai Ok destra Vado Sulle scale Vado Bravissimo No non ne ho preso Bravo ancora così Ok Prendi l'orsetto Dovrebbe essere Devi andare sopra Sopra Te l'ho detto Sopra Non c'è più Non è qui Non c'è più È al posto Ritorna sempre al posto Riprendilo C'è lei C'è lei Vai vai Non avere timore Vai Infilzati Bravo Riprendi l'orsetto No no c'è lei C'è lei C'è lei Sì ho vista tantissimo Mi stai facendo sudare un casino Allora Riprendi l'orsetto E ti botti Non lì dove sei morto Da dietro di qua Sì da dove sei passato Ok Vai Correre senza fermarsi mai Vai 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 Le sto fante Non mi prenderei mai Le sto fante Non fare così però Non vale eh No 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 Dov'è Dov'è Sei morto È finita No avevi un altro giorno L'ultimo giorno L'ultimo giorno non c'è tempo però Perché il video deve finire Quindi devi farti acchiappare un'ultima volta Sai dove la trovi la nonnina Per farti acchiappare l'ultima volta Basta che butto giù il vaso Viene da me Brava bravo Quindi butta giù il vaso antico Ming Bravo E aprile la porta Aspettiamola Va bene E aspettiamola Uccidimi Nonnina Eccola Bello nipotino Salve signora Come sta oggi Eccola Bravo Una bella mazzata Tra capo e collo Qui proprio qui Adesso vediamo che il finale ti tocca Cicco è stato buttato dal lattico A te invece che ti tocca Mi sa Un altro bel finale Per il nostro nuggets Ti prende sotto Si ti prende sotto con la macchina Ma funziona quella macchina Si si può guidare E' una delle fughe possibili Però come vedi Non è semplice Ti fa anche ciao con la mano La vedi Ma ciao signor Tu le fai no Però non serve purtroppo Perché La non è determinata Va bene Anche per questo video Direi che possiamo concludere Come ti è sembrato Ti sei trovato bene Secondo me Sei andato bene Ma sono cagato molte volte addosso Però Vedi cagato è stata La parola del video Va bene Quindi per queste volte è tutto Fateci sapere Se volete vedere degli altri episodi Pensavo anche con le versioni moddate Della nonna Ma potrebbe essere più complicato Però per questa volta Lion ed Alex House